cari amici perché il titolo napoleone inedito in questa chiacchierata di mezz'ora vedete vorrei come diceva anche la presidente proporvi un napoleone diverso dal solito con le sue debolezze i suoi gusti i suoi desideri e in ultimo anche la sua triste fine perché pensate di lui si è scritto moltissimo la bibliografia di napoleone è seconda solo per titoli a quella di gesù cristo si calcola che siano stati pubblicati ben 170 mila libri nella mia biblioteca ne ho contati 50 inoltre il cinema ha prodotto più su di lui che su liening giovanna d'arco e lincoln messi assieme e pensate che anche lui si è definito in un certo periodo della sua vita l'uomo più grande che sia mai esistito poi tutti quando era nel pieno del suo potere lo blandivano con ogni titolo e aggettivo pensate il quotidiano veneto lo chiamò l'uomo del destino o delizia dei cuori napoleone che nacque il 15 agosto del 1769 ebbe anche uno sponsor nel cardinal giovan battista capraro montecucoli che per ringraziarselo gli inventò un santo onomastico trovò un certo martire del terzo secolo che di nome fa neopolis e attraverso un complicato studio filologico lo fece diventare san napoleone una statua di san napoleone fu messa dopo la battaglia di austerlitz sulla facciata del duomo di milano ma non solo arrivarono perfino a ritrarre questo santo con il volto di napoleone eccolo là oppure per decreto imperiale venne istituita la festa di san napoleone il 15 agosto oppure si arrivò perfino a creare il catechismo imperiale che sollecitava il dovere di tutti nella venerazione e gratitudine nei confronti di napoleone addirittura nella liturgia della messa a un dato punto veniva fuori proprio salvaci e rendi forte il nostro imperatore ma torniamo a esaminare la prima gioventù del nostro napoleone che come sapete tutti di cognome faceva buona parte lui era figlio di carlo un piccolo nobile toscano che si era trasferito in corsica e di letizia ramolino bene questa donna solo a questa donna sarebbe da fare veramente una conferenza perché è stata una donna eccezionale tra l'altro lei discendeva per un ramo della sua famiglia dalla famosa e prestigiosa famiglia dei collalto quindi era anche ed era figlia di un ispettore generale del genio civile e giudicata una delle più belle ragazze di aiaccio a soli 13 anni nel 1763 venne sedotta da un diciassettenne carlo buonaparte e in 22 anni di matrimonio nacquero 12 figli tra cui quattro morti e napoleone di quelli vivi era il secondo ecco quando napoleone fu esiliato nell'isola di sant'elena sarà lei letizia a tenere i figli di una problematica famiglia sarà lei a finanziare dei figli o delle figlie caduti un po' in disgrazia dopo appunto la perdita di napoleone perché come una formica aveva messo da parte e metteva sempre da parte liquidità quando gli altri dicevano ma come liquidità sei troppo parsimoniosa e una frase storica di madame mer era quando dicevano il tuo figlio eccezionale bravissimo purché la dure purché la dure a vent'anni napoleone soffrì di malaria poi di scabbia di disturbi urinari e poi anche di emorroidi sono documentati tra l'altro i suoi attacchi epilettici ma lui di questo addirittura un po' se ne vantava perché diceva che era in buona compagnia Socrate Alessandro Magno Cesare Leonardo e molti altri il padre che faceva che faceva parte del consiglio dei nobili agli stati generali di Versailles si fece riconoscere i quattro quarti di nobiltà per poter mandare i due figli Giuseppe e Napoleone nei collegi regi non si entrava se non c'erano i quattro quarti di nobiltà e quindi ecco che Napoleone prima va al collegio d'Eautun poi alla scuola reale di Brienne le Chateau e nel 1784 entrò nella prestigiosa scuola militare di Parigi diventando a 15 anni cadetto gentiluomo 1784 cari amici cominciamo a focalizzare le date siamo nel 1784 mancano pochi anni al 1800 facciamo un po il conto e vedete che velocità che ha avuto Napoleone di assurgere poi al potere che ha avuto per un certo periodo certo che in questo collegio questa scuola militare lui non l'ha vissuta bene perché era un povero nobile insieme a dei nobili delle famiglie prestigiose francesi veniva deriso per il suo modesto abbigliamento per il suo colorito oscuro e anche per il suo fisico minuto allora a quegli anni era alto un metro e cinquantotto solo un metro e cinquantotto e veniva soprannominato rabuglione perché era uno che si interessava di tutto metteva il naso da tutte le parti era curioso ma se era curioso era anche determinato e studioso e quando nel 1785 rimase orfano fu lui il capo della famiglia e non giuseppe che era il primo genito tornò in corsica gestì le poche risorse che avevano e tra l'altro dovettero fuggire dalla corsica perché pasquale poli che era un separatista corso li stava attaccando proprio per la vicinanza che la famiglia aveva avuto con la casa di francia riuscirono a fuggire ed andarono a marsiglia e a marsiglia madame mer letizia insieme alle figlie per vivere dovetero fare i lavori più umili comunque la sua fortuna partì dall'assedio di tolone 1793 mancano sette anni solo dove la sua capacità con l'artiglieria gli fece ottenere il grado di generale da robespierre e fu anche a tolone che fu ferito da un colpo di baionetta alla coscia sinistra una delle cose che napoleone amava far vedere i propri generali era questa ferita questa ferita che portava dietro dal tempo proprio di tolone certo è che robespierre come tutti sappiamo il luglio del 1794 subisce quello che lui aveva fatto subire a molti taglio della testa e napoleone in quel momento viene accusato di essere un giacobino ed arrestato viene liberato quasi subito una certa mano gliela da pol barra che avrà un ruolo determinante per napoleone perché lui vedete rimaneva sempre un povero generale senza ganci e conoscenze se si esclude proprio pol barra pol barra era un personaggio attivo durante la rivoluzione francese ed è stato capo del direttorio dal 1795 al 1799 era quello che si può dire un tomber de femme un uomo che si divertiva parecchio e fra le tante amanti che aveva aveva anche una vedova josephine de buarnet vedova di un nobile un visconte che era stato giustiziato non durante la rivoluzione francese ma semplicemente perché era stato accusato di aver fatto una tresca con gli austriaci e questa e questo barra fa conoscere il 15 ottobre 1795 mancano cinque anni e disse a napoleone lo leggo quello che ha detto occorre che sposiate la signora de buarnet avete un grado e un talento da valorizzare ma siete solo senza fortune senza amicizie dovete sposarvi il matrimonio conferisce sicurezza la signora de buarnet è gradevole arguta e vedova condizione per cui oggi non conta più nulla le donne così non hanno più una parte di rilievo per essere qualcosa devono sposarsi voi avete carattere farete strada siete quello che le conviene volete che mi occupi io di questa trattativa napoleone gli dice di sì si sposarono il 9 marzo 1796 alle 9 di sera a d'antenne due giorni dopo napoleone parte per una missione militare e josephine incomincia a tradirlo nel 1799 barra come abbiamo capito fu messo da parte da napoleone e perciò nelle sue memorie scritte a londra parlerà di napoleone con molto rancore e forse aveva anche ragione perché lui è stato l'artefice in qualche maniera della fortuna di napoleone il 9 novembre 1799 napoleone diventa il primo console finisce il direttorio e quindi termina la rivoluzione nel 1802 diventerà console a vita giuseppina partiamo dall'inizio dell'incontro tra napoleone e giuseppina 28 ottobre 1795 barrave ha fatto il suo lavoro e napoleone riceve una lettera firmata vedova buarnè che scrive non siete più venuto a trovare un'amica che vi ama l'avete del tutto abbandonata e avete torto perché ella vi è teneramente affezionata venite domani a pranzo da me ho bisogno di vedervi e di parlare con voi dei vostri interessi arrivederci amico mio vi abbraccio sei brumaio dopo averla incontrata napoleone le scrive ha fatto il suo lavoro giuseppina mi sveglio pieno di te il tuo ritratto e la serata inebriante di ieri non hanno dato tregua ai miei sensi dolce e incomparabile giuseppina quale strano effetto fate sul mio cuore mio dolce amore un milione di baci ma tu non mandarmene poiché mi bruciano il sangue giuseppina aveva sei anni più di napoleone e tra l'altro nel certificato di matrimonio hanno falsato lui ne ha buttati su due e lei ne ha tolti due per fare le cose ma cambia poco aveva già due figli e eugène e ortensia avuti da de buarnet che comunque napoleone questi due figli li amò moltissimo ortensia la fece sposare a suo fratello luigi che era re d'olanda e tra l'altro da questa da questo matrimonio nacque poi da ortensia e da luigi quello che sarà napoleone terzo e eugène fatto vicere d'italia fu invitato a sposare augusta amalia figlia del re di baviera che comunque a onor di cronaca era una splendida diciottenne bionda e molto bella giosephine non fu mai ben vista da madame romere dalle sorelle di napoleone era una donna infedele ma comunque affezionata in qualche modo a napoleone che familiarmente lei chiamava nap durante la campagna d'italia era da tutti il risaputo della la sua relazione con il giovanissimo ufficiale ippolite carl lei aveva 33 anni e questo 19 e quella di combinar matrimoni sarà sempre un'idea fissa di napoleone anche se come diceva l'amore era poco più di una malattia che bisogna saper gestire oppure diceva anche la donna è proprietà dell'uomo come l'albero che dà frutti e proprietà del giardiniere eppure diceva anche a me basta che una donna dica una cosa per fare il contrario ma guardate strane affermazioni sapete con giosephine napoleone era come un bambino bisognoso d'affetto e durante le campagne d'italia 96 1796 97 1800 le scriveva continuamente lettere imploranti perché lasciasse parigi e andasse da lui ma lei era troppo coinvolta con gli amanti e con la bella vita tra l'altro era tornato in carica barà e forse anche questo è uno dei motivi per cui napoleone poi combarrà ha chiuso napoleone quando la vedeva minacciava il divorzio ma lei doveva essere molto brava perché riusciva sempre a convincerlo che erano solo malignità e pensate giosephine morirà il 29 maggio del 1814 è stato un brutto anno per napoleone perché la sua morte e il 3 maggio era entrato a parigi luigi diciottesimo il 12 aprile del 1815 napoleone va alla melmaison melmaison era la villa il castellotto dove viveva giuseppina che era morta ma non entrò né nella melmaison né la chiesa dei santi mi pare pietro e paolo del piccolo paese dove c'è melmaison e ve lo dico in italiano perché il mio francese cos'è come tutti questi luoghi me la ricordano io non mi posso persuadere che lei non ci sia più quindi lei lui ha continuato a amarla sempre e voi vedrete alla fine che sarà una delle ultime parole che napoleone dice sul letto di morte napoleone da adulto viene descritto viene descritto nell'autopsia l'hanno misurato un metro e 68 quindi non piccolo non piccolo l'hanno fatto passare per piccolo ecco la damnazio memorie che ogni tanto salta fuori io sono andato a guardare era la stessa altezza di benito mussolini quindi benito mussolini si uno immagina se immagina ma non piccolo napoleone invece passa per essere stato uno piccolo e non era piccolo però aveva le gambe corte il busto sviluppato la testa leggermente insaccata sulle spalle non aveva una buona vista e doveva utilizzare gli occhiali per leggere aveva una calligrafia contorta e illegibile ve lo garantisco perché ho letto qualcosa di suo era incomprensibile però riusciva a dettare le più lettere contemporaneamente ed era vietato farlo ripetere o interrompere beh pensate che si calcola abbia fatto fra lettere di spacci 35.000 e guardate che non è che sia stato tantissimo tempo 1800 1815 quindicina d'anni era diffidente di natura e non credeva nella sincerità né peure dei collaboratori più fedeli e su tayran aveva anche ragione tayran diceva che la parola è stata data all'uomo per nascondere i propri pensieri la dice tutta su tayran e napoleone l'ultima volta che l'ha incrociato era il periodo della campagna di spagna l'ha appellato con un termine non molto grazioso perché ha detto che era una seta era una calza di seta con dentro dello sterco e tayran ha detto peccato che un uomo così forte così sia anche così maleducato però vi garantisco che avere a che fare con tayran deve essere stato un affare duro come segno di particolare benevolenza comunque questo io ho voluto proprio metterlo napoleone faceva il ganasino tirava le orecchie ma le tirava fino a far male ma la gente sopportava perché se gli tirava le orecchie il ganasino ma poi gli faceva marescialli o cosa andava anche bene ecco mangiava in dieci minuti questo è risaputo si alzava sempre prima del dessert e i suoi piatti preferiti era la zuppa di cipolla il manzo bollito la frittata di cipolle l'uovo in tegame il pollo è famoso quello amarengo il suo vino preferito era lo chambertin e chi l'ha bevuto devo dire io l'ho bevuto quando ho scritto vive l'emperer il mio primo libricino lì e devo dire che veramente è un gran vino ha un difetto che costa una fortuna ma per il resto è un gran vino amava l'orzata ma anche la liquirizia il caffè non beveva mai liquori e non fumava ma tabaccava e guardate di tabacchiere ne ha regalato a tutti ancora girano se voi andate in qualche museo anche a roma museo di napoleone ci sono le tabacchiere che lui aveva tra l'altro aveva lasciato anche una collezione di tabacchiere all'englon nel suo figlio chissà se gliene andava andava letto presto alle 22 massimo le 22 e per tutta la sua vita andava letto con una bandana e alle tuierì le candene del suo ufficio dovevano rimanere aperte tutta la notte per far vedere che l'imperatore lavorava sempre mi pare che questo qualcuno l'abbia imitato a palazzo venezia con le luci era superstizioso e si teneva lontano dai gatti neri ma ora andiamo nel clou di questa nostra chiacchierata voi avete capito che non è una dissertazione storica e per intrattenervi una sera con qualche cosa così di divertente e parliamo delle sue donne perché oltre alle due mogli giuseppina e maria luisa ebbe svariate amanti di giuseppina abbiamo parlato di maria luisa il matrimonio fu dettato da motivi politici quando decise napoleone di risposarsi per avere un erede le furono presentate 18 pretendenti c'è un inciso da fare ho fatto delle ricerche sembra giuseppina aveva due figli era ancora giovane perché non riusciva ad avere figli da napoleone che comunque napoleone era fertile perché ha avuto tre figli e forse anche una figlia perché lei ha passato un brutto periodo quando c'era ghigliottina che funzionava e dei medici dicono che questo trauma ha fatto sì che perdesse la fertilità vi dico quello che ho trovato io non sono un medico perciò allora cosa ha fatto napoleone scartò le francesi e alla fine rimasero solamente due una era anna romanova la sorella dello zara alessandro e l'altra era ma lui a luisa d'asburgo lorena che era la figlia dell'imperatore d'austria ancora no non era più imperatore che lui aveva tolto ma comunque ecco un aveva 19 anni maria d'asburgo lorena e invece l'anna romanova ne aveva solamente 14 napoleone aveva 41 anni penso anch'io che abbia fatto bene a sposare maria luisa perché 14 anni e maria luisa all'inizio quando seppe di questo era disperata lei in casa la chi lo chiamava l'orco pensate tutte le battaglie che ha fatto è arrivato a vienna ha fatto di tutto lo chiamava l'orco quindi era ma diciamo che dovete accettare il matrimonio che avvenne per procura nel marzo del 1810 e poi ricordiamo tutti quanti noi ce lo ricordiamo il motto degli asburgo bella gerantali austria tu felix austria nube gli altri fanno guerra e tu fedice austria i matrimoni quindi c'era un interesse abbastanza forte dopo poco primo marzo il primo aprile si incontrano e passarono la prima notte insieme però non erano sposati il napoleone chiede ai preti se può consumare il matrimonio senza essere sposato cosa volete che i prelati francesi gli dicesse certo domani ti sposi perciò facciamo una deroga e quindi così comincia questo matrimonio con maria luisa ma maria luisa per la verità anche nelle lettere che scrive al padre racconterà sempre che napoleone la trattò bene e quando nacque nel marzo del 1811 il loro figlio napoleone francesco giuseppe carlo famiglie antenati da una parte e dall'altra il rapporto si consolidò definitivamente tanto che dava del tuo a napoleone non era una cosa allora una persona così anche la moglie doveva dare del lei o comunque e addirittura lo chiamava se buarnè la gioseppina lo chiamava nap lei lo chiamava nana o popò quindi ma napoleone racconta di tutto il suo periodo giovanile le sue esperienze e dice che le sue prime esperienze le ebbe a parigi con una prostituta originaria di nantes ma poi ebbe una breve relazione con la sedicenne desirée cléry è interessante era la sorella della moglie di giuseppe di suo fratello maggiore lui la lasciò quando conobbe giosephine e desirée cléry fece un colpo all'otto perché sposò jean baptiste bernardot generale maresciallo di francia sempre in ostilità con napoleone che diventerà nel 1809 re di svezia e poi di svezia e norvegia i discendenti che ci sono ancora lassù discendono appunto da staclari e da da bernardot quindi continuo dopo di questa comunque la sua prima amante ufficiale fu margherite furet e margherita era la trente moglie di un ufficiale dei cacciatori a cavallo durante la campagna di egitto del 1798 1799 i soldati quest'amante la chiamavano addirittura la novella cleopatra e napoleone per aver mano libera cosa fa rispedì in francia il marito l'ufficiale e promise alla giovane che avrebbe divorziato da giuseppina e lei avrebbe divorziato da questo ufficiale ma poi la lasciò in egitto e le diede mille franchi di ben servito qui vorrei fare una piccola una piccola divagazione in questa campagna di egitto partecipò io ringrazio la ester che mi ha regalato un libro fantastico su dolomier deodat dolomier partecipa anche deodat dolomier insieme a 167 studiosi alla campagna di egitto e questo dolomier sarà quello che essendo cavaliere di malta quando passano davanti a malta napoleone dice senti o buttiamo giù tutto vai dentro dai tuoi amici cavalieri di malta e dici senti vi lasciamo qui state buoni e noi non vi facciamo niente e lui va il gran capo dei cavalieri di malta accetta e dopo napoleone non rispetta molto e perciò deodat sarà anche di questo seccato però tornando dalla campagna d'egitto in calabria dolomier naufraga in calabria viene imprigionato perché aveva era stato bandito era stato bandito da maria carolina d'asburgo lorena io ho capito che dolomier era un bellissimo uomo andate a vedere le foto di questa maria carolina vabbè non fanno niente lei glielo giura e per 21 mesi lui fa carcere duro mi pare a gaeta bene solamente napoleone riesce a liberarlo dopo marengo 21 giorni ecco questa è una disgressione perché l'ho letta da poco su sto libro che parla di deodade dolomier dopo di questa margherita furè c'è giuseppina grassini una cantante contralto conosciuta a milano la conosce a milano se la prende sulla porta a parigi come prima cantante di sua maestà ritornò a parigi per i cento giorni sperava che potesse riallacciare chiaramente sappiamo com'è andata a finire e quindi rimane disoccupata cosa fa forza delle donne questa è diventa l'amante di wellington interessante perché wellington voi sapete che è quello che ha vinto la battaglia famosa un'altra è di eleonar danuel anche tutte belle donne no che era lettrice e principessa di carolina bonaparte ebbe da napoleone un figlio car danuel che lui fece conte di leon dopo un'altra è margherita weimer attrice francese prima amante di luciano poi di napoleone e poi il solito tayran dice abbiamo bisogno di una svelta dobbiamo intortare alessandro zara alessandro ci fai questo servizio e lei va a mosca altre amanti sicuramente furono marie papalà da cui forse ecco ebbe la figlia emilie marie du chatelle e carlotta gazzani queste sono ma la più famosa di tutti la più famosa di tutti è questa qua maria lezinska valevska discendeva tra l'altro da stanislao lezinski che era stato re di polonia nel diciottesimo secolo e ebbe come insegnante il papà di friedrich chopin non di musica come insegnante e sposò povera ragazza contro voglia il conte valevski di 52 anni più vecchio di lei questa viene rappresentata come questo quadro non non la rappresenta bene perché avrà la parrucca era bionda e aveva gli occhi azzurri da quello che si dice era una bellezza e questo conte valevski aveva soldi e la famiglia sua non li aveva ed era indebitata stava vendendo il palazzo e lui dice ma insomma io vi pago tutto quanto e lei poveretta lo sposa e quando conobbe napoleone lui aveva 38 anni e lei 21 era andata a stare un po meglio per la verità e dalla loro relazione nacque il figlio aleksandr valevski che assomigliava dalle foto veramente molto al padre ma adesso esaminiamo e questa è una parte divertente questo epistolario di napoleone che lo fa vedere nella sua quotidianità non napoleone l'imperatore napoleone uomo e anche un attimo debole 2 gennaio 1807 alla contessa valesca non ho guardato che voi non desidero che voi una risposta per calmare l'impaziente ardore di n il 3 gennaio giorno dopo scrive all'imperatrice giuseppina ho ricevuto la tua lettera amica cara il tuo dolore mi commuove ma bisogna sottomettersi agli avvenimenti penso che è un bene che tu torni a parigi dove la tua presenza è necessaria di salute bene il tempo è pessimo ti amo sinceramente lei voleva andare lì il giorno dopo siamo il 4 gennaio alla contessa valesca mi sono sbagliato voi mi togliete il riposo o date un po di gioia di felicità un povero cuore che non vi chiede che di adorarvi è proprio difficile ottenere da voi una risposta voi me ne dovete due quindi napoleone scrive alla valesca e la valesca ci pensa e deve aver trattato io non ho trovato quello che lei ha scritto perché preoccupata per le sorte della sua patria la polonia in quel momento che poteva essere smembrata e vuole garanzie da napoleone per andare da lui e lui gli scrive o venite venite tutti i vostri desideri saranno appagati la vostra patria mi sarà più cara se avrete pietà del mio povero cuore n il 15 gennaio alla contessa valesca che è andata a trovarlo scrive maria mia dolce maria il mio primo pensiero è per te il mio primo desiderio è rivederti tornerai non è vero me l'hai promesso se no sarà l'aquila che volerà da te n le notizie non c'era il cellulare ma le notizie viaggiavano giuseppina a tutti i costi vuole andare in polonia il 22 gennaio napoleone gli scrive è impossibile che io permetta delle donne un viaggio come questo strade pessime poco sicure pieni di fango torna a parigi sta allegra e contenta forse presto ci sarò anch'io addio amica mia mi pesa credimi non farti venire ma tu devi dire a te stessa questa è la prova di quanto io gli sia preziosa vi rendete conto no questo è napoleone che scrive comunque maria sarà l'unica oltre alla madre e alla sorella paolina che andrà a trovarla all'elba con il loro figlio alessandro napoleone passando insieme due giorni e due notti poi la storia di napoleone continua come tutti la conosciamo e dopo vaterlo fu trasferito sulla nave bellerophon e così viene descritto dagli ufficiali che lo stanno accompagnando la sua corporatura è tale che il suo stomaco si proietta considerabilmente in avanti a brutti denti poche sopracciglia cappelli castani carnagione livida carne flaccida naso ben disegnato pochissime labbra superiore ha fatto un errore è stato consigliato anche da uno che poi io vi ricorderò ancora emmanuel de la casse che andrà con lui a sant'elena il famoso memoriale perché sperava di affidarsi agli inglesi e che questi lo trasferissino al limite in america ma non si aspettava di sicuro di essere trasferito nella sperduta isola di sant'elena con il vancello northumberland e con un viaggio di 70 giorni durante i quali compì 46 anni arrivò nell'isola con una piccola corte di fedelissimi tre conti un barone con le proprie famiglie più camerieri e servitù allora al loro arrivo erano in 40 sei anni dopo quando morirà la metà e nel memoriale di sant'elena scritto da emmanuel della casse che io mi sono letto sono mille e cento pagine vi confesso che qualche pagina l'ho saltata però durante le vacanze al mare me lo sono letto scrive giorno per giorno tutto quello che in questi 18 mesi ha visto e sentito da napoleone e guardate mi ha fatto pina napoleone perché descrisse la sua infelice sistemazione il pessimo cibo il vino imbevibile e la grande sofferenza di napoleone in particolare per l'ostilità del governatore inglese adson love che era un brutto personaggio non scendono i particolari ma era un brutto personaggio che continuò a chiamarlo generale non imperatore e ritenerlo un prigioniero da controllare continuamente tanto da portare in un certo periodo napoleone pensare al suicidio il suicidio non c'è stato è arrivata la morte nell'isola e sant'elena morirà il 5 maggio 1821 a quasi 52 anni mancava mi pare un paio di mesi e le sue ultime parole sono armé la tête dell'armé e josephine e napoleone così scrive nel suo testamento gliel'ho detto a don lorenzo che mi ha telefonato ma non poteva venire io muoio nella religione cattolica apostolica e romana nella quale io sono nato bene vedete napoleone ha avuto anche un altro spregio il medico sto dottor francesco anton marchi che ne esegui l'autopsia con 17 testimoni è morto per un tumore come il padre questo dai referti asportò per spregio e imbalsamò gli organi genitali che vennero rivendicati dal prete capellano angelo vignali che li portò in corsina e tenuti dai suoi eredi dai suoi discendenti fino al 1924 quando furono messi all'asta e li comprò un commerciante di libri abraham rosenbach nel 99 in una nuova asta furono venduti per 4000 dollari all'urologo il professor john latimer della columbia university il professor latimer li esaminò rilevando un grave problema endocrinologico che aveva limitato la crescita di questi organi sembra che ora la figlia di latimer li abbia messi in vendita per centomila dollari è chiaro che questo è uno spregio ulteriore che gli hanno fatto lui viveva veramente male e anche anton marchi e tutti quanti non è stato ucciso ma comunque l'hanno ucciso veramente un po alla volta con tutti gli sgarbi che gli hanno fatto dal 1821 al 1840 rimase nella tomba dell'isola di sant'elena e nel 40 re luigi filippo decide il trasferimento a parigi questo viene effettuato sempre arrivò a parigi il 15 dicembre del 1840 nel 42 venne dato in carico all'architetto visconti un progetto di una tomba che quella che tutti noi conosciamo realizzata in quarzite rossa su un piedestallo di granito verde e finalmente il 2 aprile del 1861 venne deposto nella tomba all'esimvalide all'esimvalide sono sepolti anche i fratelli giuseppe e girolamo oltre ai generali bernard e duroc una cosa che non sapevo che nel 1940 per ordine di hitler vennero trasportate dalla cripta dei capuccini di viena le spoglie dell'englon il figlio napoleone secondo e termino con alcune riflessioni di personaggi illustri che scrissero di lui fin da quando la notizia della morte di napoleone arrivò in europa due mesi dopo abbiamo capito che per la nave di allora per andare in nave dall'europa a sant'elena ci si impiegava i 60 e i 70 giorni alessandro manzoni quando apprese la notizia in tre giorni compose il 5 maggio obbligando la moglie a suonare al piano un motivo che si ripetesse continuamente le autorità austriache vietarono la pubblicazione della poesia che fu comunque pubblicata da goethe in germania su una rivista letteraria di weimar ecco piccolo inciso ghete era un grande amico di napoleone quando si incontrarono ho comprato un bel libretto il poeta e l'imperatore e quando si incontrarono la prima volta napoleone disse a ghete vusete nom e gli diede anche un'onorificenza che ghete portava sempre e quindi ghete era particolarmente attaccato a napoleone lord baino scrisse è fatta ancorieri re e ora sei una cosa senza nome così abietto eppure ancora vivo chateaubriand che era un suo nemico giurato insieme a madame destelle scrive la voce del mondo ti dichiara il più grande colpevole che sia mai apparso sulla terra e poi marx marx scrive napoleone possedeva la conoscenza dell'essenza dello stato moderno una volta tanto sono convinto anch'io come marx allora concludo anch'io con un pensiero che ho letto da qualche parte buona parte caduto sembrava più alto di napoleone in piedi coloro che avevano trionfato ebbero paura il fantasma faceva tremare il vecchio mondo i sovrani regnavano con disagio con la roccia di sant'elena all'orizzonte sono durati poco tutti quanti e dopo di lui allora chiamiamo ancora in aiuto alessante manzoni fu vera gloria ai posteri l'altra sentenza grazie 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 grazie